E' tornato in città tale quale il show della rotaia, varietà, musica live, cabaret, canto e danza. Al teatro Tenda di Arezzo ancora un successo per lo spettacolo organizzato dal gruppo Ferrovieri giunto alla sua nonna edizione. Il scopo principale della serata è quello di raccogliere fondi per sostenere il servizio di cure domiciliari e oncologiche, servizio scudo del Calcita. E' uno spettacolo che nel tempo si è dimostrato sempre molto partecipato, anche quest'anno i posti sono esauriti già da 15 giorni, perciò è uno spettacolo che piace alla gente e devo dire che tutti gli anni si riesce a riempire il teatro Tenda. Tra gli ospiti della serata anche gli avanzi di Balera. Lo vedete queste? Sono le chiavi del conservone dell'acquedotto della fortezza. Io sono andato lassù, ho preso, ho mangiato una frittata con l'asparagi e ci ho pesciato dentro. Lo so, è buchinina rispetto a tutta l'acqua che c'è. Però stasera prima di andare a letto, quando ve l'avate detti, si sentite un po' deferruginoso. Un nel ferro, sono stato io! Arrivederci!